Siamo nel soffronte orientale dell'Alleanza Atlantica, posto in tensione dalla inammissibile aggressione della Russia all'Ucraina e quindi questa missione ha un compito di deterrenza, di prevenire e evitare che vi siano incidenti. Quindi è una missione che ha come scopo la pace nella sicurezza. Siamo davvero con grandissima piacere. Le ringrazio. Oltre a questo governo, c'è anche il Crest. E questo non poteva mancare. Presidente. Le impressioni dell'Alleanza Atlantica sono interessanti, positive. Avete avuto i mezzi d'avanguardia. Presidente, grazie per l'accoglienza per questi due giorni. Grazie per l'Alleanza Atlantica.